Debutto al Galuppatoio, il nuovo campo, una delle sfide più importanti di questa edizione. Come è andata la prima gara di questa mattina? Beh, sicuramente a livello sportivo siamo stati molto soddisfatti perché abbiamo fatto primo e secondo nella classifica. I cavalieri mi hanno interesse molto soddisfatti della tipologia del campo, si salta molto bene, il pubblico lo apprezza molto perché è un campo facilmente accessibile e penso che è ora tutto quello che è il nostro scopo. Creare un secondo campo per alleggerla di Piazza di Siena, creare un secondo campo per continuare a fare sport, creare un secondo campo per fare promozione di questo meraviglioso compagno di sport e di vita che è il cavallo e che può essere apprezzato non solo nei statostacoli ma in tutte le sue semine specialità.